Ehi là, buongiorno, ben ritrovati. Aggiornamenti domani mattina si parte in una racamper situata a Roma che si chiama LGP. Ci facciamo un paio di giorni, tre giorni lì, e poi scendiamo verso Napoli in un'altra racamper che si chiama Zeus, precisamente si trova a Pompei. Seguitemi per quest'altra esperienza. Niente, camper preparato, questa sera si dorme nel camper, domani mattina alle quattro e mezza si parte. Buongiorno, sono le quattro e mezza di partita e si parte. Siamo arrivati all'area di servizio, adesso ci facciamo una pausa al caffè e pose di patte. Proseguiamo? Sì. Altra pausa, altra pausa. Ed eccoci qua, arrivati e parcheggiati. Questa è l'area camper molto ampia. Si chiama LGP e si trova a Roma. Molto affollata, eh. Ci sono tanti tanti camperisti. Adesso non ve la sto a far vedere tutta perché sennò c'è un quarto d'ora di video. Dall'altro lato c'è l'altro parcheggio. Insomma, devo dire, una bella area camper. Per me è promossa. All'interno della comunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla base, all'area camper, a Roma, la gara sbacchinata. Mamma quanto è caudita. Solo alla stazione Termi, qua di Perro. Siamo rientrati, adesso prepariamo la cena e poi domani si riparte per un'altra giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla salute. Grazie a tutti. Buongiorno ragazzi, siamo partiti da Roma, siamo andando verso Caserta. Siamo arrivati all'area camper Zeus di Napoli, a Pompei. Questa è la piccola era camper ben fatta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.